L'accusa aveva chiesto una pena di 25 anni. L'ex agente della polizia di Minneapolis, Derek Chauvin, è stato condannato a scontare 20 anni di prigione per la morte dell'afroamericano George Floyd, la cui uccisione nel 2020 aveva scatenato la protesta del movimento Black Lives Matter. Sono solo arrabbiato perché non gli è stata combinata il massimo della pena, ha detto il fratello di Floyd. Quell'uomo ha tenuto il ginocchio sul collo di mio fratello per 9 minuti e 29 secondi. Chauvin ha dimostrato di non avere coscienza, non ha mostrato alcuna empatia, non ha mostrato alcuna compassione. Benché fosse disarmato George Floyd, era stato arrestato con violenza sfociata nella sua morte il 25 maggio del 2020. In dicembre Chauvin si era dichiarato colpevole di uso eccessivo della forza, patteggiando una pena che avrebbe dovuto rimanere tra i 20 e i 25 anni.